bella raga buongiorno ecco sono arrivato sono in macchina sono nel balestra mi vado a sfogare un po perché ancora deluso da ieri sera però oggi non vorrei in questo video parlare di calcio ma vorrei semplicemente sponsorizzare due miei amici lo sto facendo gratis quindi qualcuno a scansio di equivoci non mi hanno pagato assolutamente lo sto facendo gratis perché sono amici appunto e sono si chiamano kartal curva nord con la k e cubra intermania con la k come avete potuto capire non sono né milanisti né giuventini ma sono interisti e soprattutto cubra con questa intermania non mi viene tanto vabbè vabbè non fa niente dai mi perdono e comunque si parla di calcio in generale loro fanno kartal soprattutto fa un format per quanto riguarda fifa 18 quindi anche gli appassionati di 18 sta facendo la carriera fa i pronostici con fifa 18 e poi se sempre sul suo canale ieri c'è stato il live per quanto riguarda lo speciale champions league ci sarà un altro stasera mentre per quanto riguarda il canale di cubra ci sarà uno speciale sull'europa league domenica abbiamo fatto live insieme per quanto riguarda il campionato di serie a loro seguivano giustamente inter bologna io seguivo la diretta gol abbiamo fatto lunedì loro ogni lunedì fanno l'arena sportiva io quando posso partecipo lunedì purtroppo partecipato ma purtroppo per problemi di linea tecnica internet quindi non colpa nostra nel loro purtroppo sono fatti 40 minuti circa quindi mi dispiace però sono due bei canali davvero cubra essendo una ragazza è davvero ammirevole che si interessi così di calcio ne capisca così di calcio e quindi i miei complimenti davvero anche se non sei troppo obiettivo quando parla di juve però anche se ha detto una cosa bellissima lunedì ha detto guarda preferisco che venga di nuovo la juve che è napoli quindi brava cubra complimenti no vabbè a parte gli scherzi comunque anche nella live di domenica purtroppo è stata attaccata perché vedi parecchi sono maschilisti una ragazza l'ha chiamato in un certa maniera non proprio signorile però vabbè in quel momento giustamente lei si è arrabbiata però cubra non li pensare perché molti sono invidiosi perché vorrebbero stare nella tua situazione comunque ragazzi voglio 500 iscritti per cubra intermania e 1000 iscritti per kartal curva north per il momento è tutto ci vediamo più tardi per lo speciale europa league ci sono le italiane impegnate domani e nonostante sponsorizzi due interisti ragazzi fino alla fine forza juve ciao a juve